... ...kilometri dal mare a difeso con orgoglio e con fierezza quelle che erano le sue tradizioni, la sua cultura e la sua storia dalle varie incursioni. Quindi da Varisarda abbiamo il piacere di descrivere il gruppo folk San Giovanni. Eccoli qua, San Giovanni da Varisardo. Anche loro raccontano una storia che è scritta nel territorio e chiaramente la rappresentano attraverso la danza. Una formazione molto giovane, anche se poi sono a conquinto cardia, questo discorso avanza da molto tempo perché l'Ognastra è una terra ricca di perle e una di queste è rappresentata senza dubbio da Varisarda. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoi suoni all'accompagnamento della danza. Un applauso quindi anche per Nicola Conti e Varisarda. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Loro eseguono il ballo di astrino veloce e un amico presta i suoni all'accompagnamento della danza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.